Le Final Four di Coppa Italia hanno deluso i tifosi ma riaffermato la centralità di Varese sul fronteghiaccio. Il presidente Carlo Bino è fiero di aver contribuito con i suoi mastini a riaccendere la passione per l'hockey e lancia una sfida alle blasonate società del torneo Alps. Loro sono più ricchi ma noi ci divertiamo molto di più anche perché qui il palazzetto si affolla ogni settimana. Stiamo creando un campionato molto bello, molto avvincente, molto competitivo e stiamo cercando di dare un esempio a tutti gli altri stadi e società come gestire le partite. Ovvio che noi abbiamo la fortuna di avere un impianto nuovo che altri non hanno e quindi è molto più semplice perché quando hai audio, video, climatizzazione e quant'altro tutto è più semplice e lo collega un'agenzia come la nostra di comunicazione fantastica e vengono fuori eventi del genere che per come la vivo io lo farei tutti gli anni a Varese perché a Varese è la mia città e lo farei volentieri per portarlo a Varese ma è giusto che tra virgolette ci sveglino anche gli altri e comunque anche gli altri della società capiscano l'importanza di questi eventi e lo portano a loro ed è bello che legati a questi eventi le squadre di Alps ci stanno guardando e stanno capendo che in questo campionato c'è una bella organizzazione e ci sono delle belle squadre e chissà mai che magari qualcuno ha deciso di venire da noi presto.